Shalom, Shalom, Shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa. Nel nome di suo figlio è il nostro re salvatore e rendentore, Yahawa Shai, colui che in mondo dall'ignoranza chiama Gesù. I miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Miei saluti agli eletti della casa di Israele sparsi nei quattro punti della terra che stanno lavorando nella vigna in questi ultimi giorni e a coloro che con sincerità cercano la verità. Questa lezione sarà basata su un tezzo che sarà salvato e due tezzi che sarà distrutto della casa di Israele. Nel ebraico antico sarà della casa di Yasharala. Faccio questa lezione perché in tanti video che faccio parlo spesso che un tezzo della casa di Israele sarà salvato assieme ai 144.000 eletti e due tezzi verranno distrutti con i malvagi. Questi due tezzi sono coloro che non hanno accettato questa verità, che non conoscono il nome del padre. Anzi, iniziamo. Questo che vedete è un disegno per farvi vedere. Se questo è un cerchio, due tezzi del cerchio dipinto in rosso sono i due tezzi della casa di Israele che saranno distrutti e un tezzo sarà salvato e in quel tezzo saranno 144.000 eletti che saranno i primi a regnare, a governare su tutti gli altri, su tutto il mondo assieme al nostro re salvatore di Yahawashai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Ora andiamo a tirare fuori queste prove dalle scritture e si trova proprio qui nel libro di Zaccaria. Noi andiamo a Zaccaria capitolo 13 e versetto 8. Anzi, se leggete dall'inizio, vi farà capire un po' che sta parlando. In quei giorni avverà, dice Yahawad degli eserciti, che io sterminerò dal paese in nome degli idoli e non se ne farà più menzione anche i profeti e gli spiriti immondi. Farò sparire dal paese. Questo sta parlando della fine, ok? Questo è giusto per farvi capire che stiamo parlando proprio della fine. Il punto che volevo farvi vedere è in versetto 8 che dice, in tutto il paese avverà, dice Yahawad, che i due tezzi saranno sterminati per il rano, ma l'altro tezzo sarà lasciato. Metterò quel tezzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffinerò la gente e lo proverò come si prova loro, ok? Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò è il mio popolo ed esso dirà il Signore Yahawad è il mio potere ed è quello che sta succedendo adesso, ok? Perciò dice, due tezzi saranno sterminati e questo sta parlando della casa di Israele, ok? E questo punto che dice che saremo raffinati come la gente è quello che stiamo soffrendo adesso, è la prova che verremo provati, ok? Perché una volta venite a conoscere questa verità, vi cadono tutto sulle spalle, i pregiudizi delle persone, i giudizi degli ignoranti, ok? Vedere tante cose che dovete lasciare per seguire questa verità, ok? Verremo provati e la più grande prova avverrà tra poco, che è il tempo della distesa di Giacobbe, ok? Che dovremo scegliere se seguire il padre o il mondo, che ho fatto già video riguardo l'avvelenamento che vogliono fare a tutti e poi per metterci il marchio della bestia che è il microchip, ok? Ma non andiamo lì. Il punto è qui, ok? Due tezzi della casa di Israele, come vedete qui, se questa è tutta la casa di Israele, due tezzi saranno sterminati che poi torneranno nel regno, ok? Per capirne di più andate a vedere il video che ho fatto su l'incarnazione, perché il corpo che muore lo spirito è immortale, solo se i padri Yehawah o Yehawah Sha'e vogliono spegnerlo, ok? Perciò due tezzi saranno sterminati, un tezzo sarà salvato e andiamo a vedere questi 144 che sono i profetti, ok? Allora andiamo nel libro di Apocalisse. Libro di Apocalisse, in capitolo 7, leggiamo da uno che dice Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero, ok? Ho già fatto, per capirne di più ho fatto una lezione riguardo il libro di Apocalisse capitolo 7, basta andare a vedere sulla playlist il libro di Apocalisse e vedete per capirne di più di tutto il capitolo. Ma questo vento sta parlando della distruzione nucleare che avverrà al mondo, ok? E questa bomba nucleare sarà la distruzione, ok? È la fine di questo regno e comunque siamo lì alle porte comunque. Per non sviare la lezione andiamo avanti. Poi vedi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo di Yahweh vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo non danneggiare la terra né il mare, negli alberi affinché non abbiamo segnato sulla fronte. La parola più giusta sarebbe sigillato, ok? Sulla fronte con il sigillo, i servi del nostro potere, Yahweh, ok? E sulla fronte voi dentro il vostro cervello se il padre vuole aprirvi gli occhi a capire la verità è attraverso il pineale glandone, ok? Che è connesso al gene di Dio che avete dentro scientificamente parlando che è la VMAT2. Ne ho fatto già una lezione riguardo, ok? Ecco perché i figli dei malvagi combattono contro quella cosa lì, ci riempiono l'acqua di floro che va ad attaccare questa cosa qui, il nostro cibo è avvelenato, tutto per andare ad attaccare quella sorta di antena. Perciò i padre per aprirvi, per sigillarci quando questo sigillo è la verità. Perché quando ti vuole dare la verità, quando vuole mettere il suo sigillo, che infatti stavo parlando con un fratello ieri sera, la verità sarebbe il nome, il nome, conoscere il nome. Infatti torniamo al libro di Zaccaria dove eravamo prima. Il libro di Zaccaria che era 13, ok? Che dice? Ecco, vedete qui. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò è il mio popolo. Perciò quel nome è molto molto importante. Perché se non invochiamo il nome del padre, cioè qual è il collogamento, ok? Il nome è quello che dà il collogamento del risveglio. Una volta veniamo a conoscere la verità del nome del padre, che il suo nome è Yahawa. Il nome del suo figlio che verrà a salvarci è Yahawa Shai. Torniamo dove eravamo. scritto 7. Sì. Ok. Perdonatemi. Andiamo avanti. Ok. Non danneggiare la terra nei mari negli alberi affinché non abbiamo segnato, sigillato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro potere Yahawa. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Avete visto? 144.000. Perdonatemi un attimo. Che è come vedete qui. Ci sarà un terzo salvato e in quel terzo ci saranno 144.000 e letti. Ok. Perdonatemi un attimo. ok. Scusatemi. Andiamo avanti. Allora continuiamo. E qui si legge della tribù di Giuda. Ok. i 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. E qui continua a dirvi di ogni tribù. Da ogni tribù saranno 12.000 segnati. Ok. E dice in versetto 9. Dopo questo, queste cose, guardai e vedi una folla immensa che nessuna poteva contare proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue che stava in piedi davanti al trono e davanti all'angelo, vestito di biancoveste e con delle palme in mano e gridavano a gran voce dicendo la salvezza appartiene al nostro potere che siede sul trono e all'agnello. Ok. E questo che sta parlando di tutte le tribù, nazione, sta parlando dei figli di Israele, perché i figli di Israele sono sparsi in tutte le tribù. La risposta è sempre trovata qui nel libro di Apocalisse capitolo 5 e versetto 8. Dice, quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si postrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Ok. E chi sono i santi? I santi sono i figli di Israele. Ok. Per darvi la prova andiamo a vedere il libro di Salmi. Ho già fatto lezioni su questo e per capirne di più basta andare a vedere le serie che ho fatto sempre qui. Ok. 50. Il versetto 5 dice, radunatemi, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. La parola più giusta qui sarebbe i miei santi. Vediamo se troviamo su un'altra versione. Perdonatemi. Dove dice, radunatemi, vedervi. ci dovrebbe essere una versione che ecco questa versione lo dice giusto adunatemi i miei santi i quali ho fatto me copato con sacrificio e i cieli racconteranno la sua giustizia per ciò che egli è il dio giudice. Ok. E continua dicendo ascolta popolo mio e io parlerò ascolta Israele e io ti farò le mie protestazioni io sono il potere il potere tuo ok. E qui riusciamo a vedere che sta parlando dei figli di Israele e per mettere un sigillo su questo andiamo nel libro di Matteo capitolo 10 versetto 6 che dice ma andate piuttosto alle pecole perdute della casa di Israele ok. Perciò la salvezza resta solamente per i figli di Israele e ho fatto un video per darvi questa prova qui per chi non ha capito bene basta tornare a vedere i video che ho fatto i veri santi ok. Chi sono i veri santi perciò due tezzi della casa di Israele verranno distrutti assieme ai malvagi ok. Chi sono i malvagi? Sono i figli di Esau che stanno governando il mondo adesso assieme ai loro complici e tutte le altre nazioni ok. Verranno distrutti ok. E questi due tezzi dei figli di Israele sono coloro che stanno bevendo dal calice ok. Della Babilonia che gli piace questo mondo ok. Che non vogliono ascoltare la verità coloro che sono rimasti nella chiesa chiamando il nome falso Gesù ok. adorando l'immagine falsa di Cesare e Bogia che non vogliono svegliarsi ok. Sono coloro i figli di Israele col colo rigido che non gli puoi dire niente che loro credono di sapere già tutto verranno distrutti assieme ai malvagi come abbiamo letto nel libro di Zeccaria ok. ora andiamo a vedere cosa succederà a questi che verranno che verranno salvati ok. Perché noi aspettiamo il potere dal padre il padre ci renderà forti forti ma davvero forti in questo racconto infatti quando guardate il film dei supereroi è tutto preso dalla Bibbia ok. Perché i figli di Israele avranno questo questo tipo di potere dato a loro ok. Il potere dato ai supereroi verrà dato ai figli di Israele e con questo potere andremo e faremo a pezzi i nostri nemici ok. Perciò noi che conosciamo il nome del padre che stiamo osservando al meglio della nostra capacità i comandamenti che stiamo guardando facendo tutto quello che dice aspettandolo ok. Veremo siamo promessi di potere ok. Andiamo a leggere dal libro di Isaia ok. Libro di Isaia capitolo 40 prima leggiamo questo poi andiamo leggiamo questa versione qui 40 e adesso la fine 31 ma quelli che sperano nel signore Yahweh acquistano nuove forze si alzano al volo come acquile corrono e non si stancano camminano e non si affaticano ok. Quelli leggo ancora quelli che sperano nel signore Yahweh acquistano nuove forze si alzano a volo come acquile corrono e non si stancano camminano e non si affaticano ok. Infatti c'è una storia negli anni 80 che hanno ritenuto una storia altamente segreta che alla fine il segreto è venuto fuori uno che lavora per una della famiglia più grande del mondo che è la Rothschild è venuto fuori e ha dato questa notizia infatti c'è anche un libro scritto a riguardo dalle parte di Africa ok c'era questo così chiamato africano che predicava più o meno le stesse cose che predicava Yahawashai ok prima di essere il crucifisso lui predicava le stesse cose al popolo e cercava di svegliarli no e dargli la loro vera identità come i veri figli di Israele e questo si parla della parte dell'Ovest di Africa dove sono stati i figli dei Malvagi a portarli in schiavitù anzi vediamo se riesco a trovare questa cosa un attimo poi tenerò al discorso allora qui andiamo google ah avevo salvato il coso avevo trovato il racconto vabbè comunque e questo qui aveva poteri ok che lui poteva andare oltre un muro poteva leggere i pensieri della gente aveva poteri che lo rendeva tipo un'estraterrestre e sono hanno sentito questi figli dei Malvagi ok i Caucasi gli americani sono venuti giù e tante volte l'hanno sparato ucciso e il suo corpo si rigenerava ok e lui tornava in vita e si sono si sono stufati perché hanno tentato tante volte e cosa hanno fatto l'hanno portato su un aereo ok dove l'hanno distrutto fatto a pezzi lui ok l'hanno fatto a pezzi l'hanno messo in una macchina ok che ha macinato tutto il suo corpo e hanno diviso il corpo su diversi lati hanno portato in diverse parti del mondo così lui non li generava e a sorpresa loro questo qua è tornato nell'ufficio da proprio chi ha mandato la missione di uccirlo e lui si è apparso a questo dicendolo io ho visto che fortemente io sto parafrasando lui dice io ho visto fortemente che la vostra voglia di sterminarmi è davvero forte ma io vi lascerò e andrò via ma vi dico nel futuro ci saranno altri tanti come me che verranno con questi poteri e poteri più forti ok e questo si vede che era un angelo era un angelo mandato dal padre per svegliare il suo popolo ok infatti dopo questo racconto più o meno è venuto fuori sono venuti fuori i nostri grandi insegnanti Masha Araya che hanno cominciato a predicare dei figli di Yasharala Israele come sono stati portati schiavi tu e chi sono ok perciò qui leggiamo ma a quelli che sperano nel Signore Yehawa acquistano nuove forze si alzano a volo come acuile corrono e non si stancano camminano camminano e non si affaticano proprio come un bel esempio è come Hankook che vola che fa tutto questo questo è il potere che il Padre darà a noi secondo voi perché fanno quei film da dove hanno trovato un'ispirazione per farli dalle scritture ok ora andiamo a leggere da capitolo 41 leggiamo da 15 sempre il libro di Isaia 41 e leggiamo da 15 anzi leggiamo da 14 che dice non temere o Giacobbe vemiciatolo ok il Padre ci chiama i vermi perché in questo momento siamo come dei vermi ok non abbiamo forza siamo sottomessi ai nostri oppressori ok e dice non temere o Giacobbe vemiciatolo scusatemi se non pronuncio bene vemiciatolo o residuo di Israele io ti aiuto dice Yahweh il tuo rendentore è il santo di Israele ok vedete sempre ecco io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi tu trebierai i monti e li radunerai in polvere e li ridurrai in polvere anzi andiamo a vedere un'altra versione vediamo questa versione qua non temere o Giacobbe che sei come un verme o residuo di Israele sono io che ti aiuto dice l'Eteno e il tuo rendentore è il santo di Israele ecco io faccio di te un erpice nuovo ok andiamo a vedere questa cosa cosa vuol dire erpice ok perché è importante erpice dice macchina agricola per frantumazione delle zone e lo spiantamento del terreno non che altro lavoro vediamo altri sì i denti i denti di lupo e i denti che cosa rappresentano i denti nelle scritture i denti rappresentano arma arma ok una nuova macchina una arma ok che cosa fa questa macchina rottura delle crosta formatarsi dopo la pioggia questa macchina cosa fa rompe i denti le lame i dischi girevoli ok perciò è un'arma che si sta parlando qui ecco io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi tu trebierai i monti e quando parla dei monti sta parlando dei poteri e li ridurrai in polvere e renderai le colline simili alla pula tu li ventilerai tu li ventilerai soffiamo vuol dire che potremmo soffiare portare via gente come il vento ok tu ventilerai e il vento li porterà via e il turbine li disperderà ma tu giubilerai nell'eterno e ti glorerai nel santo di israele ok avete capito questo versetto è bellissimo perché è questo che stiamo aspettando veremo dati un erpice nuovo che rappresenta un'arma nuova ok e noi ridurremo in polvere ok le monti che che rappresentano i poteri ok noi soffriremo i venti il nostro venti li butterà via e prima abbiamo letto che voleremo come delle acquile ok e vi farò vedere se riesci a trovare un video che ho messo a parte che vi fa vedere più o meno cosa si intende questo ok e purtroppo qui non c'è il secondo libro di Esdra che il secondo libro di Esdra parla va a profondo di queste cose qui ecco perché li hanno hanno dovuto togliere dalle scritture ok e volevo andare avanti facendo vedere altri altri libri anzi prendiamo un libro qui dal libro di salmi e chiudiamo con questo salmi 149 perché devo fare vedo se riesco a trovare il video 149 e dice alleluia cantante all'eterno un nuovo cantico cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli si rallegri Israele in colui che lo ha fatto vedete quando si parla dell'assemblea dei fedeli dei santi si parla solo di Israele con lui che lo ha fatto esultino il fiduolo di Sione loro re l'ordino il suo nome con danze li salmeggino con timpani e la cetra perché l'eterno prende piacere nel suo popolo qual è il suo popolo Israele ok e li adona di salvezza gli umili esultino i fedeli adoni di gloria cantino di gioia sui loro leti abbiano in bocca le alte lodi di Yahweh una spada a due tali in mano per far vendetta alle nazioni e infliggere castigli ai popoli ok una spada a due tali in mano per far vendetta delle nazioni e infliggere castigli ai popoli per legare i loro re con catene i loro nobili concepi di ferro per eseguire il loro giudizio scritto questo è l'onore che hanno tutti i suoi fedeli ok questa è la fine quello che succederà a coloro che ci stanno governando adesso figli dei malvagi finiranno sotto diventeranno diventeranno i nostri servi ok diventeranno i nostri servi ok e avrei voluto andare nel libro di malachia che parla di questa fine ma non voglio tirare dopo lungo magari in un secondo video farò andiamo a vedere qui perché avrei un video che fa vedere più o meno di questo potere di che cosa si intende ok scusatemi vediamo But ye shall receive power After the Holy Ghost this time As they never death According to their deeds Accordingly he will repay Purit will be possible Recompense to his enemies For the islands he will repay Recompense So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory is to the right of the side. And the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. And the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. And the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Avete visto? Questo è il tipo di potere che aspettiamo dal nostro salvatore, Yahawa, nel nome di suo figlio Yahawa Shai, perciò siate attenti, guardate i tempi e sappiate che tempo siamo adesso, non è tempo per cercare carriere, per andare dietro le cose mondane, è il tempo per svegliarsi, è il tempo per fare ciò che vuole il padre, osservare i suoi comandamenti al meglio della nostra capacità e cercarlo adesso mentre lo si può trovare e conoscere e utilizzare i suoi nomi veri, detto questo spero che siete stati edificati e voglio dare tutti i lodi dovuto al padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai, nostro re e reinentore e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità e miei saluti agli eletti della Casa di Israele, alla prossima, Shalom.